Nel Cilento si preparano i panini più buoni. Si è concluso con tre primi classificati Xequel Contest Panino Amore e Fantasia, lanciato da www.ilmattino.it. Ebbene a vincere sono stati i locali tandem di Napoli, Suscettibile di Vallo della Lucania e Casa di Rinaldi di Napoli. Sul podio dunque con il suo panino Antonio Morinelli di Suscettibile, locale di Vallo, che ha proposto il panino con ingredienti di aziende cilentane, hamburger biologico, carciofini, pancetta rotolata, caciocavallo e maionesi al limone. Ma a partecipare alla finale live del contest, anche un'altra bella realtà di Vallo della Lucania, il draft, che ha preparato e presentato il proprio panino, sfiorando di poco il podio. Una bella soddisfazione dunque per il Cilento, che intanto in questi giorni è stato gran protagonista a Parigi, all'ombra della Torre Eiffel, con il maestro dei gelati di Sapri, Enzo Crivella, al suo fianco tra i fornitori, Silvia Chirico, della tenuta Chirico. Ebbene il gelatiere di Sapri, da tutti conosciuto come il leone per via della sua folta capigliatura, ha rappresentato in questi giorni l'Italia presso la sede dell'UNESCO a Parigi, dove si è svolta la 31esima sessione del Consiglio di coordinamento internazionale del programma MAB Biosfera e Uomo. Crivella è stato selezionato grazie alla sua straordinaria capacità di coniugare territori e qualità. Nel suo viaggio a Parigi, non a caso, è accompagnato da chi da tempo fornisce latte di bufala e la ricotta per i suoi gelati, Silvia Chirico, del caseificio Chirico di Ascea, un'altra straordinaria eccellenza cilentana.